Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao a tutti, sono Miriam e sono iscritta al secondo anno di corso di educazione professionale. Il mio percorso di vita e il mio desiderio di esserci per l'altro mi hanno portato a scegliere questo percorso. In particolare ho scelto di svolgerlo presso l'Università dell'Insubria per la sua ampia offerta formativa, infatti sono presenti discipline in area pedagogica, educativa, psicologica, sociologica e sanitaria. Inoltre ho la possibilità di svolgere tirocini in diverse aree di intervento e di essere seguita da tutor professionali ed esperti. In più sono presenti mini seminari e laboratori didattici e creativi che permettono di approfondire la conoscenza di sé e di acquisire strumenti utili per la professione educativa. Sono soddisfatta della mia scelta poiché ho incontrato professori disponibili, esperti e formati e inoltre ho avviato uno scambio proficuo e arricchente con i miei compagni di studi.